Un augurio immenso a tutte le donne, che oggi è la festa delle donne, l'8 marzo 2014. Auguro tante mimose di vero cuore a tutte le belle donne, diciamo, da parte mia, di Tony Henderson, la Tigre di Portigliana. Augurando i centri di questi giorni con sempre delle mimose abbondante, perché voi donne siete la cosa migliore per ogni persona. Quindi oggi come oggi è la grande gioia, è una grande ricchezza, diciamo, quando la donna diceva che il proprio uomo riceve la mimosa, perché è un segno di affetto, è un segno d'amore, è un segno di salute e di tutto. Io, da parte mia, auguro tanta gioia e tanta felicità a tutte voi donne. Ora, signori, vi regalo due parole di rosse rosse per tutti voi, sempre voi donne da parte mia, perché le rosse oggi come oggi sono le rosse in amore. rosse rosse per te, ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa, cosa voglio da te. D'amore non si muore, ma chi si sento solo, non sa vivere più. Un'ultima speranza stasera ho comprato, rosse rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore sai perché? Nel cuore, nel mio cuore, non ho altro che te. Forse in amore le rosse non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rosse rosse per te, ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa, cosa voglio da te. Lascio un ciao a tutti voi, da parte mia dei toni, portandovi sempre nel mio cuore. Ovunque mi trovo, ovunque sono, siete sempre nel mio cuore. Un ciao.